Grande successo domenica a Foggia in Viale 24 Maggio per l'iniziativa Viale in Fiore organizzata dall'assessorato alla cultura del comune Dauno insieme anche a tante associazioni operanti sul territorio. È stata una giornata in cui ci sono state diverse iniziative in cui fondamentale è stato anche il supporto delle scuole con il coinvolgimento della media Bovio e della direzione didattica del Circolo Manzoni. Tra concerti, viaggio verso la natura e fiori è stato interessante vedere come la città ha risposto in maniera importante a questo evento riscoprendo la delicata bellezza di un viale stoico fra i più importanti del capoluogo Dauno così come ha sottolineato l'assessore alla cultura Anna Paola Giuliani. L'iniziativa, che dovrebbe anche ripetersi nel corso dei prossimi mesi è destinata ad avere un sapore importante visto che nel nome della cultura Foggia sta facendo tanto. Mimmo Siena, Speciale News.